salve salve a tutti ciao ciao a tutti visto che mi chiedete le periscope lo faccio ciao beatrice ciao certo che ti saluto sophie va bene come state cosa fate di bello ciao nemi io sto tornando già sto tornando in realtà sto andando in agenzia e ho appena fatto uno shooting da stamani noemi ciao miriam ciao a tutti ciao gabri sto andando in agenzia sono in showreel e sto andando là perché c'ho da fare un sacco di cose devo tagliare dei video devo tagliare anche il video in collaborazione con michele e il video in collaborazione che abbiamo fatto ieri con momi con sophie con tantissime video show abbiamo fatto un sacco di video e devo tagliare tantissime cose devo parlare devo fare un botto di cose e mi dispiace se questa live magari si interromperà un pochino ma essendo in taxi ci sta che il wifi che internet perda si va bene mi metto in posa vai ok ho fatto un sacco di facce ascolta il cd di michele ca che non ho letto ciao ciao a tutti ciao sofia ciao miriam ciao tutti e quando verrai a roma non lo so io a roma ci vengo pochissimo di solito spero di venire presto comunque spero di venire sarà prestissimissimissimo proprio ciao susi ciao 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 a tutti grazie grazie ma che venire venire nelle marche infatti sì sì sono a milano io sto a milano oramai fino a sabato penso venerdì o sabato e ancora non so se ho trovato casa perché mi so per trasferire qua a milano e quindi insomma ciao aurora e tesoro ma chi sei tesoro sei venuta l'alcatraz che hai detto che mi manchi ciao fiammetta allora auguri tesoro auguri a tutti in sicilia prima o poi verrai spero vivamente di sì spero davvero 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 di sì tantissimo a bologna ragazzi vorrei venire veramente da tutte le parti veramente da tutte le parti però il problema è organizzare i tour e tutto questo intanto per ora godetevi michele che c'è il suo ti ho conosciuto all'evento mulac a roma grazie grazie mille ciao teresa ciao ciao erica ciao a tutti nel tuo palazzo ci sono posti liberi tesoro carina e vabbè in niente milano traffico di milano tipo però in realtà spero che tra dieci minuti all'incirca arrivo in sciorille michele verrà in sardegna non lo so onestamente non lo so anche perché adesso è strapreso sempre in giro così quindi non lo sento granché beh ovvio verrò a vivere con te assieme a michele ci mancherebbe tanto lui lui mi adora chi è venuto all'alcatraz lo sa ha visto i video ha visto in anteprima un video in particolare in cui lui mi tratta veramente malissimo porti una melanzana ma io vi ringrazio tantissimo ma non importa non gliela portate però vi ringrazio un sacco ciao valeria ciao sto andando in nella mia agenzia in mia agenzia in mia agenzia se non riesco nemmeno più a parlare conosci shanti si si ieri era addirittura a casa nostra abbiamo scenato tutti assieme si 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 infatti sarò nel video collaborazione con shanti shanti sarà nel mio riservative melanzane forever yeah e basta ragazzi insomma vi volevo solo salutare visto che mi avevate chiesto su twitter la live e allora già che in questo momento riuscivo la faccio comunque la rifarò un'altra ne farò stasera probabilmente perché veramente ah li hai letto il mio tweet della live no che cosa mi hai scritto verrà in toscana ebbè in toscana io sono di lucca nel senso quando vengo giù a lucca spesso e volentieri giro è la toscana un pochino quindi toscana sicuramente sì però il problema sono gli incontri capite quindi vabbè a parte questo non riesco a vedere più niente mi sono bloccati i commenti ritorni a rimini boh non lo so spero di sì spero tanto 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 di sì domani detto fatto ci vediamo domani già che me l'hai anche ricordato bravissima domani dalle due io sono la seconda tipo quindi sono proprio all'inizio se vi va di vedere detto fatto ora i due ci sono domani tu sciatisi delle mie droghe grazie vieni a forte di amarmi ma certo che ci vengo spessissimo a dire la verità ti chiesto tu delle live? ah beh allora sì grazie a te che ho fatto la live quindi ringraziamo tutti Jules che mi ha richiesto la live basta ragazzi io adesso vado che tra poco magari sono arrivata e pago e poi scendo e faccio un sacco di cose e e e su che canale? Rai2 Rai2 dalle 14 in poi e basta ci sentiamo poi dopo farò sicuramente altre live quindi ci vediamo un po' più tardi vi mando un grande bacione tantissimo ci vediamo stasera ciao